Mi sembra chiaro che non mi interessa, uh, a volte mi gira la testa Testa a coda, sto con la mia tipa su una testa C'è un pensato e tu non mi emoti con della pesca Mi sembra chiaro dei vater, non mi interessa, uh, siamo a 200.000 e mi gira la testa Testa a coda, sto con... 3, 2, 1, GO! Buon giorno ragazze e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un bellissimo video! Questo video è... Che video molto 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 bellissimo! Sei bellissimo! Sei bellissimo! Ma... Allora... Ma non lo so leggere! Ancora, vai! Ma non lo so leggere! Che vuole da me? Che posso farci? Giulia, siamo a 200.000 iscritti! Sìììì! Uh, sìììììììììììì! E come promesso ragazzi Beh, prima vi voglio dire una cosa Mi sembra chiaro che le mater non mi interessa Uh, siamo a 200.000 e mi gira la testa Testa coda sto con la mia tipa su una, su una Tesla Che appesso de' uh, l'emotico della pesca Uh, a 180.000 e mi gira la testa Mi gira la testa Mi sembra chiaro che le mater non mi interessa Uh, siamo a 200.000 e mi gira la testa Testa coda sto con la mia tipa su una, su una Tesla Beh ragazzi, questo quadretto sta sempre con noi ovviamente Allora ragazzi, facciamo il gioco delle parole Dammi una M Dammi una A Dammi una G Dammi una I Dammi una K Magic Family Ragazzi, noi con voi siamo il numero uno E continueremo sempre ad andare avanti Perché se voi ci sarete, noi ci saremo E tutta la Magic Family ci sarà tutta la vita Tutta l'estate, tutti i mesi, tutti i giorni Tutte le primaveri, tutto Ok ragazzi, allora abbiamo fatto un po' di cretinate varie Però si doveva fare, c'è i 200.000 iscritti C'è, c'è Allora ragazzi, ora vi spieghiamo come arrivare a 200.000 iscritti No, allora Noi partimmo da un giochino Con delle caramelle puzzolenti Non mi ricordo il nome, vabbè Le rischi al gusto Ah sì Le rischi al gusto Comunque erano le caramelle puzzolenti Che ti facevano vomitare, no? Quelle lì, le schifose Cioè, veramente faceva così È normale, era il gioco Puzzenti, i cantori della nonna E quindi facevamo tutti questi giochini così Di questa marca E ci divertivamo un sacco Facevamo tutti questi video Poi Stavano crescendo gli iscritti Per me pure 80 iscritti Che erano tipo la cosa più bella e più grande del mondo A 1000 iscritti Tipo di Wow Che bello Ma io non ci arriverò mai a 100.000 iscritti Eh ma come si fa? C'è impossibile Tipo così del genere E allora Continuammo Fino a quando Abbiamo Arrivammo Tipo A tanti iscritti Sui 20.000 25.000 E facemmo La Pizza Challenge E allora Quella spaccò E allora Noi da quel punto Abbiamo provato Una cosa Grandissima E allora Siamo partiti Con il nostro Viaggio Verso YouTube Esatto ragazzi Perché ovviamente Questo È quello che voi vedete Ma Dietro questa telecamera Ci siete Voi che siete 200.000 Magichine Magichine E noi Che abbiamo Questo impegno Amore Passione Perché è tutto E forza Perché tutto questo Ce lo date voi Tutti i giorni Coraggio Tutti i mesi Tutto Tutto quanto Quando carichiamo I video Ci scrivete Cose bellissime Quando carichiamo Una foto Cose bellissime Quando carichiamo Un musical Cose bellissime Che stupende E a noi Ci date coraggio Forza Come appunto Ha detto lei E appunto Quindi noi Tutto questo Lo facciamo Col cuore Amore Passione Forza Tutto quanto Che poi Ci regalate Ok Ora lo diciamo Due volte Questa cosa Io Marghe Io Marghe Io e Giulia Insieme a voi Torniamo La Magic Family Cioè Amore puro Allora ragazzi A me sembrava Impossibile Arrivare a 100.000 iscritti 200 Ma 100.000 100.000 iscritti Ma ad oggi Siamo a 200.000 iscritti In due anni Quindi Cioè È stato tipo Infatti Noi siamo felissime Di avere a voi Che abbiamo Un sacco di amore Proviamo Un sacco di Non lo so Ti dà tante Emozioni Energie Io Infatti Grazie a voi Quando siamo arrivati A 100.000 Like Iscritti E beh ragazzi Allora Dopo questo succo Del video Beh lo so Che voi aspettate La cosa più bella Lo so Che aspettate La cosa più bella Però Io non me la voglio dire Cioè Perché no Non vorrei Cioè Dopo Però Ve la devo dire Perché avevo promesso No c'è Capito Ragazzi Ma vi piacciono Queste maglie Vi piacciono Mi è sembrato Che mi piace Se le vi piacciono Potete anche Acquistarle Andando sul sito www.magliegiuliakawaii.it E appunto Le potete acquistare Perché ci sono Maglie Cover Tazze Cuscini Di tutto e di più Alcoli Di colori diversi Bellissimo Quindi Però C'è una sorpresa Per voi Perché Una O uno Di voi Potrà vincere Una di queste magliette Ovviamente Ci sono delle regole Per queste Per vincere queste magliette Ovvero Se non siete ancora iscritti Al canale Iscrivetevi Se invece lo siete Non vi preoccupate Non disiscrivetevi Perché dopo Andate Piggiorare le cose Però Cioè potete rimanere iscritti Non è che dovete Cancellarvi Dopo riscrivervi Cioè va bene Quello stesso Quindi Se non siete iscritti Iscrivetevi Se siete iscritti Lasciate stare Poi Lasciate like Al video Commentate Condividete Se potete In tutti i social Che avete E iscrivetevi E iscrivetevi Anche a Instagram A Musical.ly E basta A Facebook Ma Vi ricordate E quindi Poi noi faremo Il sorteggio E Ma Nel video Devevano commentare qualcosa Dove hanno condivido il video Sì Devono condividere il video Su Instagram Su Instagram E su altri social Che avete Magari voi Ecco Ma Ma per caso Vi siete scordati Di commentare Hashtag Coco Ciao Coco Però Non sotto i nostri video Sotto altri Però Prima di commentare Con l'hashtag Ciao Coco Dovete assolutamente Commentare il nostro video Con Nelle cose Cuore Commenti dolcissimi Così del genere Perché Altrimenti Non potete partecipare Al Perché L'estrazione La faremo Dai commenti Esatto Però Voi dovete essere iscritti Lasciare like E iscrivervi anche A Instagram E a Musical.ly Allora ragazzi Prima di concludere il video Vi dedico Un pezzo di ultimo Che a voi piace E quindi ve lo dedico Anche se io non mi Dengo nessuna Perché Allora vai E ci sarà Terra a te stesso Camminato in equilibrio Su di me Mischiando il tuo sorriso Alle mie lacrime Ma poi la sera Ma poi la sera Che arrivava E mi chiedevo Dove è senso Se c'è il senso Tutto questo E ci senti Non c'è bisogno Di parlare Dalla serranca Dalla serranda Scende il sole E noi ci siamo accontentati E ci sarà il ballo delle incertezze E ci sarà un posto in cui perdo tutto Che per stare in pace con te stessi e col mondo Devi aver sognato almeno bene un secondo E ci sarà tra la gente che aspetta Chiunque ha rischiato tutto ed ha perso Che per stare in pace con te stessi e col resto Puoi provare a volare lasciando terra a te stesso Ho camminato in equilibrio su Quindi 3, 2, 1, 2 Quindi ragazzi questo è il video Spero vi sia piaciuto A me è piaciuto tantissimo Inseretevi a Instagram MargieGiuliaKawaii Ho qui già su Facebook MargieGiuliaKawaii E al suo secondo canale MaggiTV Sul mio segno vi piace la MargieGiulia Reale se volete Le maglie, le cover, le tazze, le cuscine O tantissime altre cose Di tantissimi altri colori Andate su www.MargieGiuliaKawaii.it Vi ricordo che io Margie Io Giulia Insieme a voi formiamo Un Magic Family Cioè amore puro Se vi è piaciuto lasciate like Commentate e iscrivetevi al canale Quindi vedete lo dà per tutto Se non vi è piaciuto Shhh Shhh Grazie a tutti